tutto è lo stesso tranello no perché lui aspetta dopo il gol che non non faceva gol da tanto tempo che veniva da una serie di problemi da calciatore e si è sfogato in quel modo in quel momento gli è scappato in quel momento a te da tifoso ti è scappata la frase quindi non è la stessa cosa non è la stessa cosa mi dispiace mi dispiace io sono purtroppo un uomo con tutti i suoi errori suoi difetti le sue dembolezze se fosse come quello lassone stessa qua a mezzavuo pensiamo tu è chiaro no questo ci manca stesse qua a me quindi pertanto anch'io sono portato a sbagliare il mio modo di essere di agire di pensare è quello cioè quando tu bestemmi il padre eterno che non ti fa del male assolutamente ma infatti dai che vieni scorrendo io purtroppo penso io pagherei quelle persone che si comportano male se dipendesse da me te l'ho detto sempre l'arboteca è come uno pedalini sta a terra a me li stai dicendo quindi io non voglio il male di quelli che pregano il bene io voglio il male di quelli che si comportano male capisci sono anche altri c'è anche un film che dice dio perdona io no sta a posti mo chi vuol capire capisce e non devo andare oltre capisce a me dispiace ma lui non se la deve prendere più lui se la deve prendere con se stesso perché forse avrebbe dovuto dire collo teneva ragione io conduci sta gente che c'è il tumore c'è gente che combatte con la lucemia capisci e dopo questi mi vendisci e dopo 14 mesi di cose difficili ma chi lotta per la vita un bambino di otto anni che deve dire al padre eterno ecco alla finiscono facciamo sto discorso allora nessuno allora nessuno di noi nessuno di noi può dire mai che si è buona vista che sta meglio di me che segni il concetto c'è sempre che sta peggio ma è giusto avere un occhio che sta legge ma è uno dei guardano il box guarda sembra valla giudicata ma è solo ma sta proprio di sport io ho avuto a portare la scusa forse no il concetto è sbagliato caro si è un discorso che guarda che sta male nessuno e 3 guarda che sta male ma neanche se può fare male no chi sta meglio lo capiscono facciamo il giocatore guadagno un milione di euro anche se strombo del le cose è contente perché sta che sta peggio scusate intanto c'è l'ultima telefonata prima di andare in pubblicità talmente lunghe infatti è lunghissimo è lunghissimo non è che con tre minuti riesce a chiarire